Stiamo parlando e credo vi siate rese conto di quanto sia necessaria ovviamente per seguire un po' questa battaglia. Tra l'altro voglio dire a Federico che mi associo senz'altro a questa tua idea della prima conferenza mondiale dell'Aponia, non è la prima volta che la proponi e così via, ma vedremo tra oggi o poi se è possibile riprendere un po' la situazione e vedere di farcela. Allora, vi presento Agostina Capintu che anche lei è avvocato, il docente di istituzione di diritto pubblico al Politecno e che sostanzialmente ha preso in cura, chiamiamo così, questa situazione con un ricorso al TAR di circa centinaio di docenti del Politecno e che ha più risposto. Sì, sono una premessa per, intanto questo non ricorso al TAR è stato preceduto da diversi atleti, come i docenti del Politecno e anche come scuole e facoltà, noi tecno abbiamo riporto al rettore e al senato accademico che ritornassero sui loro passi e solo quando c'è stata una dica da volontari alle istituzioni, alle istituzioni strategiche e abbiamo deciso che appunto non abbiamo fatto ricorso, i numeri non sono coincidenti, chi ha fatto apprezzo non ha poi anche fatto ricorso, tant'è che appunto il ricorso è sottoscritto solo da un centinaio di noi e naturalmente viene il caso di dire che è piuttosto imbarazzante per i dipendenti dell'amministrazione fare ricorso contro la propria amministrazione e è anche imbarazzante notare qui come un avvocato dello Stato si parta estremamente a Bruxelles perché l'Unione Europea in qualche modo si prenda cura anche del pluralismo in particolare della lingua italiana e poi invece lo stesso avvocato dello Stato, non la stessa persona fisica, va invece a difendere il politico che è diventato Napoli che era monoglotta. Adesso è mi piaciuto sentire l'avvocato Giudile chiedere, riparò la telefonata al suo collega Pastorino Olmi che ha scritto una memoria di 50 panni sul nostro ricorso per replicare il nostro ricorso dicendo delle bestialità assolute come per esempio, notate bene che nella, faccio sento a quello che diceva anche Paolo Grossi, la lingua ufficiale dello Stato, la lingua ufficiale della Repubblica, ha parlato più volte Paolo Grossi nel concetto di lingua ufficiale. Nella dettiva del Senato Accademico del Politecnico di Milano si dice festualmente che la lingua ufficiale dell'Ateneno è la lingua inglese. Io dico ma una volta quelli che ritenevano di essere Napoleone venivano internati, li si mettevano in camicia di forza e li si internava perché questo era il trattamento, non un trattamento sanitario obbligatorio. Adesso diventano senatori, diventano rettori e tutto questo pensa che è Pastorino Olmi, l'avvocato dello Stato, il difendente politico dice sì però è una cosa che è cattosia, nessuno viene in mente, ah insomma intanto l'hanno scritta, qualcuno è venuto in mente, a meno che non scrivano, non parlino tanto per... Allora appunto la cosa noi ci siamo, appunto abbiamo fatto ricorso, speriamo che l'Italia, così come la Corte di Giustizia, l'Italia italiano comprenda e speriamo anche che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale, spero che Paolo Grossi sia il giudice dell'attore, anche se avendolo sollecitato troppo e avendo già letto la sua non sia costretto a ritenersi combattibile e a fare un passo indietro, però io insomma sono veramente fiduciosa sul fatto che questo ricorso abbia successo, anche se appunto con l'interpretazione nelle mani giudici quindi, però appunto quello che noi volevamo, abbiamo voluto fare, i motivi di legittimità secondo noi sono tecnici e sono quelli, diciamo così, dei piani alti delle incostituzionalità, ma sono anche quelli più banali che hanno a che fare con lo statuto anche giuridico del personale dipendente dal politico, dei docenti e degli amministrativi i quali si trovano ad aver fatto magari dei concorsi dove non veniva richiesta necessariamente la conoscenza della lingua inglese e adesso sono tenuti a riparare l'inglese, state bene appena, non come ha detto Lucas con 2000 ore, che questo dovrebbe essere, diciamo così, il tasso di inglese o il monte ore necessario per una conversazione, non per insegnare, ma per una conversazione, diciamo così, di un certo livello e si presume che il cinema di università non richiede una padronanza e una, come dire, governo della lingua, non per quella che si richiede per una conversazione. No, tutti noi siamo tenuti a fare 100 ore in inglese, possiamo anche autocertificare la nostra conoscenza, quindi pensate che cosa vuol dire i termini di dequalificazione della formazione universitaria, perché uno autocertifica oppure 6 o 100 ore in inglese con il che il rettore si mette la linee faccia e possiamo tranquillamente insegnare la politica di Milano. E cioè la lingua inglese diventa il passaggio necessario, poi si sprega se tu insegni diritto traducendo per esempio diritto amministrativo e diritto amministrativo, dovrei fare lo sforzo di, perché non fanno neanche le istituzioni europee, perché il diritto è materia che sfugge assolutamente alle traduzioni, ci sono istituti che non si incontrano mai e quindi sono intraducibili assolutamente, però io dovrei fare lo sforzo di tradurre in inglese il diritto amministrativo italiano, insegnarlo in inglese agli italiani eccetera eccetera eccetera. E' una cosa che io trovo semplicemente assurda, cioè una cosa cartiana, non so insomma, ma così, lo stesso vale direttamente per i docenti che insegnano l'ottore dell'arte, le storie dell'attività, perché è ovvio ci sono le cose che hanno bibliografia o i pericoli diciamo perché io sono prevalentemente di contesi, ma non è per tutti e non è soprattutto come diceva anche l'advocato che mi ha preceduto, il punto vero è anche una questione di libertà, io vorrei poter scegliere, vorrei poter scegliere sia come docente sia come studente. A questa banale condizione l'ottore dell'arte dice, beh a 100 km da Milano con il Frecciacosso in un'ora si può andare con il tecnico di Torino, io dico beh questa è la proiezione della libertà che avevano nell'assieme regime quando dicevano che non ti sta bene e te ne vai in Francia e si imbrica devi stare per con te. Ha un ex elettore profumo di Torino. Esatto, è quello che ha in qualche modo concordato con il nostro elettore di Milano che le cose vanno bene così e che il Politecnico può tranquillamente. Ma non solo, forse voi non lo sapete ma in realtà gli studenti, poi ci ho fatto anche una manifestazione più alla fine tecnica di Torino, in realtà l'allora creatore profumo aveva inventato questa bellissima cosa, praticamente chi optava per la biura nei confronti della sua lingua, della sua cultura e quindi non studiava più in italiano, aveva le tasse gratuite, cioè non pagava le tasse universitarie, quindi chi scendeva la lingua inglese non pagava le tasse universitarie. Ovviamente pagate con i soldi dei soldi, ovviamente i studenti italiani. Questo per dirvi come davvero non andare in galera. Sì, quindi questo è una questione anche di regime giuridico del personale, una questione di libertà, è una questione di, diciamo così, come diceva giustamente Paolo Rossi, di rispetto della Costituzione e quindi noi speriamo che il tasse, prima ancora noi abbiamo la udienza di merito fissata al 26 di marzo, ma quello che io spero è che il Tar accolga la nostra questione di rimettere gli atti alla Corte e quindi la questione sia portata dinanzi alla Corte Costituzionale perché ci dice l'Avvocato dello Stato che in realtà è la legge Gervini che prevede con l'internazionalizzazione questa possibilità che il Politecnico Milano ha fatto che traduce in altri amministrativi. Ora, intanto la legge Gervini non dice, e per fortuna perché non arriva a tale aberrazione, che si possa addirittura escludere la lingua, cosa che il Politecnico ha fatto perché il problema primo è che appunto viene esclusa la lingua italiana, cioè che l'inglese è la sola lingua delle lauree magistrali e dei dottorati a partire dal 2014. Quindi appunto si esclude la lingua italiana e questo a tanto non arriva la legge Gervini e dice che ci possono essere e si dà la possibilità di fare dei corsi anche in lingua inglese. E allora la questione che proponiamo alla Corte Costituzionale, speriamo appunto che il Dara capisca questa richiesta e la colga, è quella di, noi abbiamo formulato due questioni, cioè una questione di tipo interpretativa dicendo ci dica la Corte Costituzionale se o no è possibile interpretare in questo modo la legge Gervini e poi se sia possibile fare anche dei corsi in inglese oppure se questo sia vietato. Meglio sarebbe se affrontasse invece la questione di costituzionalità pura che gli abbiamo posto e cioè quella di dire ci dica la Corte Costituzionale se una università in questo Paese, un'università pubblica, possa come diceva Paolo Grossi, come suggeriva lì di fare Paolo Grossi nel suo tempo, non so se siete stati attenti, se ci possano essere dei corsi in lingua inglese, non degli insegnamenti, dei corsi di laurea, cioè se un'università pubblica italiana possa rilasciare dei titoli aventi valore legale, perché questa è la domanda vera, non è tanto una questione interpretativa, perché se fosse una questione puramente interpretativa i giudici potrebbero, anche i giudici del Tar Milano potrebbero dire, del Tar Lombardia potrebbero dire, beh insomma c'è un'altra interpretazione conforme seguite quella. A me a questo punto interessa sapere dalla Corte Costituzionale se le nostre università possono rilasciare appunto in lingua diversa da quella ufficiale, torno appunto alla ufficialità della lingua. Io credo che alla fine però non sia importante tanto la questione di cortile del Politecnico di Milano, che vale, quello che vale, perché Giulio De Mauro che ha accettato di venire la prossima a intervenire in un convegno che stiamo organizzando a Milano, diceva, beh ma questa è una follia, ma ripesta, lasciamo che faccia il suo corso nel senso che appunto una risalta di seppegnerà. No, io credo che a questo punto la, no, perché uno che dice la stupenda per l'antanello, per l'inglese, dice, venda. No, ma scusami, anche Giulio De Mauro, che dice una sciocchezza, 40.000 studenti di ogni anno a fuori, ma non 5 anni, la dov'è giudicata nel 27, anche io credo che abbia perso la testa. No, beh, lui dice semplicemente che è una cosa talmente, talmente stupida, che però, in ogni caso, secondo me invece, a questo punto è arrivato il momento, è giunto il momento di fare una riflessione appunto che deve essere una riflessione di tipo politico e per questo noi abbiamo cercato, noi come ricorrenti e poi come appellanti, stiamo cercando di organizzarlo, abbiamo anche fondato un comitato, lo abbiamo chiamato un comitato di un va male, per cercare di fare nuova di sensibilizzazione a tutti i livelli. Settimana prossima, il 20 di febbraio di un anno abbiamo organizzato un bel convegno, ci sono tutte le accademie, non dico per carità di patria che cosa abbiamo dovuto fare per costringere alcuni dei rappresentanti delle accademie e delle organizzazioni che istituzionalmente hanno come compito quello di riflettere la lingua italiana. Non certamente la carina della Prusca, non certamente l'IJ che sono venuti di corso e ci hanno detto subito sì. Non è stata la stessa cosa per altre istituzioni, non per carità di patria, non faccio i nomi. Detto questo però appunto, secondo la prossima ci saranno a Milano, ci sarà questo convegno a Milano intitolato Lingua, Cultura e Libertà, perché appunto dobbiamo insistere su tutti questi elementi e vorremmo che si iniziasse in questo paese a riflettere di più su una questione che non è la questione del Politecnico, è la questione della lingua italiana. E qui noi ci sentiamo invece due pareri di a parte di due centrali dell'editoria nella parte speciale del Politecnico di Milano che evidentemente verranno esaltorati dalla vendita sostanzialmente dei loro testi proprio con questa opzione del Politecnico. continuiamo questa inchiesta relativamente dal fatto che il Politecnico di Milano ha deciso che nel 2014 non insegnerà più in lingua italiana a pensi in lingua inglese. Stiamo voltando quindi la questione d'anni che logicamente non afferiscono unicamente al punto di italiano, è evidente che per questo punto di vista non produrrevo più cultura italiana, nella parte speciale scientifica, ma da produrre in lingua inglese. Ad uno sconcettante, sì, è paradossale, come io avevo detto lei quando mi ha contattato la prima volta, è un indice di un'ottimità di un aspeggiamento veramente provinciale che caratterizza molto il nostro paese oggi un generale aspeggiamento nei confronti della cultura, dell'esperatura e della lingua italiana che vengono considerati di serie B. In gran parte dei miei coetanici hanno figli che si affacciano alle scuole elementari e decidono di mandarli a scuole di lingua inglese, ma stranieri, io le dico che io ho un marito londinese, vivo a Londra, adesso sono a Milano e vivo a Londra, e i miei figli che andranno alle elementari l'anno prossimo andranno alla scuola italiana in Londra, perché sono anche italiani, io ci tengo, io vedo tra i miei studenti stagisti che quando leggino la nostra lingua, prima di tutto la nostra cultura, anche da italiani, ma soprattutto da italiani, e quindi sul fatto di arrivare alla laurea, forse c'è una formazione spesso scarsa della vostra lingua, ma scarsissima in inglese, dovendo discutere una bibliografia in italiano, spesso temi elaborati incontenti italiani con riferimenti italiani suonano assolutamente paradossale, ma anche se non ci sono anche provinciale, perché si pensa di riqualificarsi anche spesso agli occhi delle classifiche internazionali sulle nostre università, per recuperare punti per essere al pasto con le presenti globali, se non ve lo guardano sulla didattica, se sul valore e sui contenuti di quello che si fa, se non sono incendibili dalla lingua che le accompagna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A. Grazie a tutti, And. Tocca. il problema è raggiungere, far sì che ci sono i suoi stranieri che hanno una certa giastica, raccattivanti che ci sono i suoi stranieri, questo è tutto. Ma anche quella non si capisce perché non si potrebbe fare in italiano, perché questa è una specificità che lei mi insegna che in un mercato, nel momento in cui tutti lo fanno in inglese, è ovvio che nel momento in cui c'è una specificità, però se non utilizza valvizza, no? Il governo è insomma, noi siamo questi studenti italiani, forse fanno il giornale, ma se siamo alcuni dottorati nel giornale non necessariamente non si fa in inglese, non si fa in inglese, ma si fa in inglese, ma non si fa in inglese. La ricerca della recensione del risultato è poi che ci siamo moltissimi, non c'è una possibilità di sicurare insomma. secondo me un atteggiamento della generazione di 30-40 anni che magari sono responsabili appunto della didattica ma anche figli che devono formare che considerano ormai l'italiano e la cultura italiana di chi se ne si, mentre come diceva lei all'inizio citando il 75% del patrimonio e quant'altro quello che possiamo veramente contrapporre se lavoriamo sulla nostra identità e sulla nostra memoria è proprio tutto quello che pertiene all'ambito culturale italiano che rappresenta un patrimonio collettivo perché abbiamo una città assolutamente unico, un amico da parte di questo, ma in particolare chi saranno poi insomma i ultimi battito di me, cioè da parte di Madalina, che invece verrà, che invece verrà, anche per la mente quando c'entriva un pianissimo, tutto il lavoro, diciamo, della reinforzione sempre che abbiamo fatto di una lingua No, noi parti dell'altra edges di quattarsa, endett numerous, maneghe di говорить la Hardy, per il momento, quindi un momencie sarà con questo livello che vi troppo al limite di questo standard di un po' continuo averlazato, ma comunque comunque passate a tutti diciamo uninformatico Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.